Qui in questa insolita cornice, all'aperto, perché la trasparenza è una cosa che ci piace. E questo è un luogo che abbiamo di recente inaugurato, lo leggete alle mie spalle, Largo Valterio Cirillo, un signore che 22 anni fa ha deciso con un gesto estremo di porre fine alla sua vita perché era finito nel tritacarne dell'allora Tangentopoli, perché poco dopo, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, si è scoperto la sua totale estranità ai fatti ma non ha resistito all'ignominia e abbiamo ritenuto di fare un gesto al ricordo di quel momento. Però oggi non siamo qui per questo, siamo qui in un luogo fortemente simbolico, siamo contenti di aver intitolato la memoria di Valterio Cirillo, ma siamo qui perché pensiamo che sia doveroso a un anno dall'insediamento rendere pubblico ciò che abbiamo fatto. Volendo usare una terminologia anglosassona, tutto questo si chiama accountability, rendicontazione e questo è ancora di più doveroso nel momento in cui viviamo questo spirito dei tempi che è uno spirito dei tempi in cui si guarda la politica, le istituzioni con un certo sospetto perlomeno da parte dell'opinione pubblica. E proprio per questo è ancora più doveroso rendere questo incontro pubblico non già un monologo del sottoscritto figuratevi che noia che sarebbe, ma abbiamo chiesto a due giornalisti, Paolo Mastri alla mia destra del messaggero e a Paolo Coppola del centro alla mia sinistra, di porre domande come fanno i giornalisti perché credo che la dialettica sia sempre un valore. Come vedete oltre a me c'è tutta l'aggiunta che è a disposizione delle penne accumulate da cui sono circondato oltre naturalmente a curiosità, dubbi e quant'altro dovessero venire da questa platea. Abbiamo scelto appunto un luogo aperto perché magari se qualche cittadino si ferma e pure pone questioni non ci sottraiamo perché ripeto è doveroso rendere chiaro ciò che è stato fatto in questo anno che senz'altro non dimenticherò. Io la chiudo qui e passo in ordine alfabetico Coppola Buonasera, allora Sintaco, io le volevo chiedere questo per analizzare un anno di amministrazione ho ripreso una sua dichiarazione del periodo in cui ancora non era neppure candidato e c'era una frase che mi ha colpito e dice l'efficienza della pubblica amministrazione non può restare lettera muta nella realtà e poi vorrei dare un po' di speranza i cittadini hanno avuto molta pazienza finora in questo momento c'è bisogno soprattutto di speranza insomma a febbraio dell'anno scorso è passato un anno sappiamo come l'abbiamo passato abbiamo tasse ad alti livelli in fila interminabili all'ufficio di Via Venezia bollettini che arrivano in ritardo spese alle elevatissime a sedi unito impianti sportivi e tutto quello che sappiamo Sintaco, fino a fatto sta speranza? L'avevo detto che ci piace vivere pericolosamente quindi io credo che oggi come oggi la pubblica amministrazione sia un esercizio molto complesso in cui bisogna naturalmente al di là della narrativa che tu svolgi durante una campagna elettorale bisogna che racconti molto chiaramente alle persone quello che hanno davanti quello che è lo scenario entro cui ci muoviamo ma io credo che la speranza è una virtù che non si debba in ogni caso perdere efficienza della pubblica amministrazione veniamo subito al punto lei citava la questione Tari per cui si sono create delle file delle problematiche 8.000 lettere non recapitate rispetto ai 117.000 diciamo cittadini pescaresi la percentuale su cui si può migliorare però se devo dare un messaggio di speranza io leggo questo dall'altra parte della medaglia io osservo che noi per svolgere questo servizio risparmiamo rispetto allo scorso anno quest'anno costa 12.000 euro costava 200.000 l'anno scorso e nonostante tutto nonostante le politiche fiscali in cui siamo stati tenuti io posso affermare senza tema di smentita che la Tari quest'anno costa meno costa un 7% in meno perché la Tari è parametrata al costo del servizio dal momento che noi gioco a forza abbiamo dovuto fare riduzioni sulla spesa pubblica abbiamo tagliato il costo di questo medesimo servizio mantenendolo inalterato per 1.900.000 in 3 anni che sviluppato per le tasche dei cittadini significa questo 7% in meno a me sembra questo un messaggio di speranza perché la pubblica amministrazione questo MOLOC questo mostro a varie teste la burocrazia è oggettivamente un grosso problema però può essere un'opportunità e questa è in concreto una piccola opportunità con la piena consapevolezza che pagare le tasse è sempre un esercizio che determina l'arricciamento del naso io non mi ascrivo una certa sinistra che forse un po' tafazzisticamente parlava di quanto è bello pagare le tasse però è doveroso è doveroso perché diversamente non si riescono a erogare i servizi e quindi mi sembra che ne valga la pena in ogni caso scusami sindaco solo per chiudere il discorso tali siccome era successo pure l'anno scorso è possibile evitare che i cittadini debbano sempre avere l'ansia se arriva o non arriva un benedetto bollettino a casa era successo pure l'anno scorso senza che poi si debba fare ogni volta la colpa al povero assessore di turno cioè c'è qualcosa che nella macchina buroeratica che blocca che blocca anche gli invii questi avvisi cioè quello che dovrebbe essere insomma non l'abc della comunicazione dell'amministrazione dei cittadini cioè io noto proprio un'impennata dell'ansia da parte dei cittadini ogni volta che arrivano che non è solo il contenuto dell'avviso ma proprio l'avviso stesso ci arriverà non arriverà arriva arriva c'è una soglia di inefficienza da abbattere però per esempio uno cerca di utilizzare gli strumenti che la tecnologia ti mette a disposizione c'è una iniziativa che si chiama cassetto fiscale se tu vai sul sito del comune e naturalmente hai un po' di attitudine verso questo mondo sei in grado di farlo però diciamo è una come dire un obiettivo verso cui tendere noi ovviamente auspichiamo e lavoreremo affinché l'anno prossimo io so di vivere sulla terra e quindi immagino che non si potrà arrivare a zero però diciamo l'impegno è abbattere questa soglia questa soglia degli 8000 per rimanere in una metafora diciamo della montagna perché non ci sfugge il fatto che questi sono spettacoli poco degni ci sono persone anche anziane che magari trascorrono ore e questo non è senz'altro una cosa che determina il sorriso bene sindaco io le farò una domanda la cui banalità dipende dalla sincerità della risposta e mi sforzo di andare oltre il capitolo fiscale che pesa sulle spalle di tutti noi visto che la vita di una città è fatta anche di tante altre cose della possibilità di vivere di usufruire della città in un certo modo della funzionalità dei trasporti dei servizi delle scuole delle menze eccetera ma anche della capacità soprattutto per una città dinamica come Pescara di poter avere un orizzonte da esplorare ecco questo primo anno tutto considerato è stato esattamente esattamente come lei si immaginava oppure con la sera rincasando e chiudendosi dietro le spalle alla porta di casa c'è qualcosa che le rode questo è stato senz'altro un anno diciamo se mi passate la battuta vissuto pericolosamente nel senso che oggi se tu vuoi una vita tranquilla certamente non devi fare il sindaco che credo di poter affermare senza tema di smentita il ruolo pubblico più esposto e temo anche più impegnativo perché sei la diretta interfaccia della cittadinanza però è parte del mestiere e penso che nonostante diciamo una discreta quota di oneri io resto convinto che non ci sia onore più grande che rappresentare diciamo una comunità a me il concetto di onore mi piace non solo per così che non ho trascorsi diciamo militari alle mie spalle però discipline e onore è quello che è richiesto a chi adempia funzioni pubbliche della carta costituzionale l'articolo 54 e allora poi se capita a te di farlo cerchi di non rendere quella diciamo quel testo una lettera muta ma di viverlo ogni giorno naturalmente con la fatica e l'impegno che questo comporta ma io diciamo quando la sera mi lavo i denti non provo imbarazzo quello che vedo allo specchio ecco in ordine trasporti servizi e menze madamina il catalogo è questo io oggi come dire rifletto sul fatto che fare il sindaco è una specie di matrimonio con la città e tu lo fai nella buona e nella cattiva sorte lei parlava di servizi una pubblica amministrazione eroga servizi una pubblica amministrazione è chiamata a erogare servizi ma ahimè anche perlomeno in questo tempo a rispettare certi parametri perché a me a noi a questa giunta a questa maggioranza è toccato di fare pulizia nei conti è toccato fare operazioni complesse tutti dicono ma che ci vuole ad alzare le tasse pure non l'aveva fatto nessuno e non è che questa situazione è venuta fuori diciamo il mese scorso il costo dei servizi noi abbiamo avviato una procedura che si chiama riequilibrio finanziario plurinale che è disciplinata dalla legge dal testo unico degli enti locali articolo 243 bis e seguente e che ci piaccia o no perché noi siamo tutti sottoposti alla legge abbiamo l'obbligo di coprire il costo del servizio in una percentuale minima che è il 36% e noi per fare questo abbiamo dovuto fare dei tagli abbiamo dovuto fare delle razionalizzazioni e siamo partiti da certi ambiti in cui la copertura del servizio era veramente minima io cito questo ambito perché è un problema è anche un problema diciamo così di coscienza politica la cultura noi abbiamo dovuto fare manovre davvero pesanti in questo ambito però noi siamo partiti da un dato per esempio che la rete museale che costa un milione e due all'anno si remunera da sé per 50 mila euro quindi qui non è che c'è molto da come dire girarci attorno si tratta di invertire una tendenza con il fatto che noi siamo ora nella terra di mezzo siamo all'avvio di questo percorso abbiamo fatto un anno e naturalmente questi benefici bisognerà aspettare io ogni tanto rifletto sul fatto che la nostra epoca è dominata dal presentismo voglio tutto e lo voglio subito figuriamoci l'ambito politico eppure poiché diciamo a parte come dire la prospettazione di stupefacenti soluzioni miracolistiche io non conosco alternative al lavoro quotidiano con la richiesta naturalmente rivolta alla cittadinanza di essere giudicato al termine di un mandato perché cinque anni sono un lasso di tempo sufficiente per vedere se questi sacrifici che noi abbiamo chiesto sono diciamo ne valsa la pena io sono sicuro di sì e torno alla questione della speranza di prima perché noi non possiamo pensare di ahimè vivere come abbiamo fatto fino a ieri perché questo paese e naturalmente anche Pescara per troppo tempo ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità questo è un conto che pagano le nuove generazioni io crede ho 44 anni sono nel mezzo del cammino di nostra vita e ho il sospetto forse di far parte di quell'ultima generazione che in qualche modo è riuscita con uno scatto di reni a non essere risucchiata nelle sabbie mobili vado spesso in giro nelle scuole ci vado il più possibile oggi sono molto contento ho registrato un messaggio di auguri i maturandi e lo faccio perché penso che quello sia il nostro futuro penso che la scuola sia uno specchio fedele della nostra società e ne sia una base e lo faccio anche in qualche modo per cercare di infondere quella speranza come si diceva prima in un ragazzo che frequenta le scuole che magari fa la maturità che ha 19 anni che ha meno opportunità dei suoi genitori ma anche meno opportunità dei suoi zii perché è indubbio che oggi questo è un problema sul tappeto e però noi non possiamo diciamo fare finta di niente non possiamo pensare che tutto questo possa cambiare miracolisticamente bisogna adottare delle cure delle cure robuste però ne vale senz'altro la pena con partenza sindaco c'è un estremo bisogno di recuperare la fiducia nelle istituzioni non è mia nessuno è sempre sua è familiare sì dopo un anno ho vissuto pericolosamente questo rapporto di fiducia c'è ancora secondo lei? allora mi sembrava familiare questa frase allora io sono moderatamente alessandriniano ecco quindi sì mi ci ritrovo io penso che vede diciamo come amministratore pubblico io ritengo che ci sono due ambiti in cui mi muovo quotidianamente cioè da un lato è la gestione ordinaria e straordinaria della cosa pubblica dico straordinaria perché non passa il giorno senza che sul mio tavolo arrivino problemi casini di questioni dell'ultima ora magari da risolvere anche in fretta eccetera però c'è un'altra linea di azione che a mio avviso è di pari importanza la prima che è quella a cui lei accennava cioè del tentativo di recuperare un po' di fiducia a queste istituzioni perché è un dato di fatto ineludibile quello per cui oggi è in atto una grossa crisi della rappresentanza della rappresentanza politica della rappresentanza istituzionale della rappresentanza del mondo dell'economia del sindacato ovunque e questo è un dato di fatto però io penso anche che questo falò di rabbia che gira che è evidente in giro perché gli amministratori pubblici non sono dei marziani che vivono in quei palazzi ma vanno in giro e continuano ad andare in giro e devono farlo proprio per non perdere il senso della realtà ecco sono consapevoli che bisogna operare su questo fronte poi diciamo io ho qualche difficoltà a parlare di me stesso perché poi penso sempre che sia per lo meno poco elegante però se devo dire una cosa osservo che ritengo di avere un solo patrimonio che è la mia credibilità poi ovviamente le scelte della pubblica amministrazione sono complesse sono complesse tu devi tenere bene ferma la barra a proposito del buon andamento e dell'imparzialità ma se tu fai una scelta è sicuro che essa non sarà neutra perché c'è qualcuno che ne viene come dire scarsamente soddisfatto però il punto è sempre quello di guardare al quadro d'insieme all'interesse generale e poi la fiducia delle istituzioni vacilla quasi quotidianamente sotto i colpi sotto il maglio delle inchieste degli scandali che sembrano una litania senza fine però naturalmente non c'è solo questo quella è la patologia del sistema io lo vedo nella mia nella mia esperienza la mia esperienza quotidiana che è frutto di ho solente utilizzato metafore belliche per descriverla però io mi accorgo comunque di essere circondati da persone animate dalle migliori intenzioni poi ovviamente le migliori intenzioni si devono scontrare con la realtà con questo tempo questo spirito dei tempi che viviamo con il fatto che oggi la pubblica amministrazione non è più in grado di erogare benefici come in passato ma richiede sacrifici alla cittadinanza la contabilità degli enti locali va in una direzione chiarissima i comuni dovranno divenire autosufficienti dal punto di vista finanziario noi non saremo più in grado di fare come in passato insomma contributi a pioggia io continuo a essere stupito del fatto che diciamo nell'ordine di importanza anche numerica delle questioni che mi vengono poste c'è naturalmente il lavoro la casa popolare le multe e le deiezioni canine questa è una classifica piuttosto precisa e se per esempio sul diciamo il lavoro naturalmente il sindaco non è in grado di risolvere problemi individuali io di una cosa sono contento relativa all'ambito per esempio secondo quello dell'alloggio popolare la casa è il diritto primario dell'individuo tu hai bisogno di un tetto e poi ti devi mangiare e quante persone vengono a raccontarvi storie difficili io sono contento di non aver perso l'umanità e di rimanere sempre colpito da quelle storie di ordinaria difficoltà di quotidiane difficoltà che mi vengono narrate e allora io sono contento del fatto di essermi spogliato di un residuo potere discrezionale che aveva la pubblica amministrazione il sindaco in particolare qui non si assegnano le case in via straordinaria perché sei amico del sindaco o perché qualcuno ti raccomanda abbiamo seguito esattamente la stessa via dell'assegnazione ordinaria c'è una commissione preseduta da un giudice in pensione che peraltro non costa nulla alla pubblica amministrazione lo fa anche in silenzio in anonimato e garantisce buon andamento in parzialità perché c'è bisogno di regole anche nella graduazione del bisogno che lì è davvero terribile però le regole valgono sicuramente più dell'arbitrio perché oltretutto mi sentirei onnipotente o quasi non voglio correre questo rischio se dovessi decidere di salvare Tizio piuttosto che Caio perché quando tu hai diciamo una famiglia con tre figli e ce n'è un'altra con quattro beh ragazzi il limite è molto sottile allora è meglio che siano le regole generali astratte a risolvere questa questione non diciamo lo schiribizzo di come si alza la mattina il sindaco io spero che questo aiuti a dare un po' di fiducia delle istituzioni per esempio perché appunto questa è l'imparzialità è il fatto che tutti dobbiamo avere pari opportunità è un percorso complesso però diciamo non me ne vengono in mente di altri e di migliori sindaco a proposito di casa sul giornale di oggi abbiamo raccontato cosa accade quando Pescara va a dormire la stazione si trasforma in uno sterminato dormitorio nei tunnel nei canfatti dell'area di risulta si accampano centinaia di persone lo stesso avviene sul lungo fiume lungo la pista ciclabile sotto i portici nei cantieri e anche in qualche condominio che pietosamente lascia agibile gli androni sono centinaia di persone è una situazione molto simile a quella che vediamo in questi giorni nelle stazioni di Roma e Milano c'è una differenza che quella è un'emergenza legata al flusso dei migranti e quindi prima o poi finirà questa sembra essere legata ai flussi di migrazione irregolare comunque una marginalità che tende a essere cronica se ne occupano di notte soltanto due strutture di volontà è possibile che sfugga alle responsabilità del municipio tutto questo? diciamo io temo che nulla di quello che accade nella città di Pescara sfugga alle responsabilità del municipio perché penso che la regola numero uno è che tu non puoi dire non mi compete perché tutto ciò che accade qui compete al sindaco la marginalità sociale che diciamo popola le nostre stazioni di notte che popola gli androni dei palazzi diciamo di Ruti che popolava l'ex cofa finché c'era abbiamo chiuso abbiamo sigillato un palazzo in via d'annunzio a problemi di statica ed era un ricovero di marginalità e queste sono cose che certo non ti lasciano diciamo non ti lasciano indifferenti uno cerca di fare naturalmente del suo meglio cerca di lavorare con la Caritas per offrire perlomeno una coperta l'assessore Diodati diciamo lo ha fatto cerca di lavorare con le associazioni mi viene in mente la prima The Road che proprio alla stazione ha il suo diciamo centro di aggregazione e ricovero e cerchi di diciamo di coprire più angoli del campo che sia possibile questo però mi dà come dire il senso di un dato quello per cui oggi come dire lo Stato in qualche misura arretra però la società avanza visto che quante associazioni che svolgono questo lavoro ci sono che coprono delle carenze dello Stato che certo ricevono anche dei finanziamenti pubblici per fare questo quindi noi dobbiamo lavorare affinché ce ne siano sempre di più e dobbiamo vigilare affinché diciamo l'utilizzo di questo denaro pubblico tanto prezioso tanto ancor più prezioso proprio perché incide sulla vita degli ultimi della società sia diciamo sia utilizzabile al meglio cerchiamo l'assessore sul pizio sono sicuro che potrebbe relazionare cerchiamo per esempio di smuovere le acque per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica siamo contenti che diciamo partirà a breve in via pepe un condominio diciamo erpa però anche di un diciamo di un certo pregio a livello architettonico si deve fare di più con la consapevolezza peraltro che diciamo io apprezzo l'idea che nei confronti di questa tematica ci sia un approccio non meramente come dire legato all'emergenza sociale ma che tenga conto insomma di più ambiti possibili di intervento d'azione per raccordare tutte queste energie che ci sono e che talvolta sono anche un po' diciamo slegate l'una dall'altra per dare una una risposta a questa a questa umanità dolente che sono gli ultimi della società e che noi non possiamo fare finta di nulla perché talvolta dormono anche in quel giardino no perché qui attenzione diciamo la coppia di dioscuri che mi circonda sempre all'insegna del vivere pericolosamente giustamente con il piglio del giornalista di razza mi suggerisce ma ci sono domande dal pubblico ah e qui perché qui il problema è sempre rompere il ghiaccio ma caldo diciamo rotto il ghiaccio è uno spettacolo qualche volontario dobbiamo procedere ad un'estrazione di un'estrazione di un'estrazione di un'estrazione parca di saldrine stimo moltissimo ma la cosa importante ci sono persone buttate per strada dalla mattina alle 6 io quando pesco da casa alle 6 però io vedo che quello continua a stare lì e io continuo a scrivere a chi devo scriverti però non c'è stata mai una soluzione in merito quindi o una risposta precisa o se no è un'altra che contiamo a fare domande come ha fatto Paolo Mestre guardi caro Sergio Simoncelli lo scorso anno per esempio sono arrivati dal mare 170.000 migranti nell'Europa e questo ha destabilizzato l'Unione Europea perché poi diviso 170.000 diviso i 5 100 milioni di abitanti sono uno ogni 3.000 cosa voglio dire voglio dire che voi giustamente venite dal sindaco e dice ma c'è Tizio c'è Caio c'è Semprone il sindaco fa del suo meglio con le risorse che ha però è anche consapevole che naturalmente queste sono partite che diciamo vanno come dire richiedono una certa struttura istituzionale un sistema di raccordo perché questi fenomeni temo che siano riproporzioni tali per cui se non si fa un fronte comune che pure qui facciamo con questa rete di solidarietà a cui accennavo prima diventa difficile però non ci vogliamo arrendere non vogliamo soccombere e non vogliamo neanche fare finta che questo non esista proprio perché il dramma della marginalità sociale che poi in senso più ampio è il dramma dell'immigrazione tema solente cavalcato nel dibattito politico anche con una certa serie di strumentalizzazioni è una questione centrale del nostro tempo però per fare questo io la risposta che le posso dare caro Sergio Simoncelli è naturalmente la necessità di fare la più grande massa critica possibile perché le istituzioni un po' rattoppate in questi tempi però se non si mettono insieme non sono in grado di fornire risposte però le istituzioni lo fanno questo si mettono insieme lei non ha idea in quel palazzo lì quanti tavoli sull'ordine provinciale per la sicurezza ho frequentato e quante volte è stato parlato di questo vi do anche un'altra cosa che vale i numeri sono poi utili per capire la società mi arriva con una certa frequenza settimanale un report per esempio delle azioni mirate all'intervento che vengono svolte non so carabinieri polizia municipale guardia di finanza le zone più disparate dalla città diciamo da piazza salotto al ferro di cavallo per intenderci lì diciamo non ci sono battaglioni di corazzieri ci sono 7, 8, 9 persone quando va bene questa è la massa critica che sono in grado di mettere le istituzioni e io naturalmente apprezzo questo lavoro sono sicuro che si può e si deve fare di più però partiamo da questi dati non da altri questa è una bella domanda ma io infatti glielo chiedo caro Sergio prego buonasera a tutti sono Andrea Oliva società svizzera di radiobiologia e fisica medica sono un giornalista scrivo per il mensile come sappiamo tra gli oneri della pubblica amministrazione c'è la materia degli agenti fisici per esempio la questione annosa mi permetto di San Silvestro e questa materia rientra nel novero dei temi della sicurezza i cui costi sono esentati anche dai vincoli di patto di stabilità volevo chiedere in una prospettiva larga ambia su questa linea qual è l'indirizzo della pubblica amministrazione grazie l'incipit di questa domanda mi ha fatto pensare a un film in cui c'è Paolo Villaggio che viene chiamato a un telequiz e gli chiedono i nomi e i cognomi di quelli che stavano nella curva del Maracanà in occasione della partita finale mi sembra Brasil-Uruguay finale del campionato del mondo però diciamo che rispondiamo anche a questo San Silvestro è una questione atavica annosa e antica San Silvestro è una questione che abbiamo affrontato e che affrontiamo c'è un assessore delegato ad hoc posso fornire un aggiornamento in ordine al fatto che il 25 e il 26 di questo mese adesso non ricordo con precisione la data avremo un incontro con il ministro Guidi e il ministro dello sviluppo economico visto che diciamo molte di queste problematiche naturalmente insistono su un territorio comunale ma le soluzioni temo che vadano ricercate altrove in questo senso si parla della necessità di fare massa critica istituzionale l'auspicio naturalmente è quello di lavorare per eliminare un problema che si trascina da decenni e che ha accompagnato anche lo sviluppo urbano di San Silvestro perché quando c'erano queste antenne non c'era nulla poi piano piano sono cresciute le case naturalmente uno ci abita in una casa e vuole come è giusto che il suo diritto alla salute venga tutelato ma questa è una partita che passa evidentemente attraverso diciamo tavoli ministeriali esattamente come tanto per diciamo citare una cosa che trovo analoga la questione molto suggestiva dell'ex cementificio che ha cessato la sua produzione e che tu quante volte mi è stato detto eh ma in Germania recuperano le vecchie fabbriche ci fanno i musei le cose benissimo però questo scherzo costa 150 milioni di euro così per avere un'idea di quello di cui parliamo e quindi è evidente che bisogna portare la questione su quei famosi tavoli romani cui accennavo prima grazie signor un altro volontario sta arrivando il microfono ci sono pure gli assessori che me li sono portati a fare però buonasera a tutti allora caro Silvio intanto complimenti per come sta si sta sviluppando questa serata anche grazie ai nostri ai miei colleghi che hanno posto le domande importanti e serie io volevo porre questo questo credo 25 anni fa la nostra città è stata liberata dagli bianni ferroviari e ci siamo ritrovati le aree di risulta Pescara io la reputo nel centro Italia una delle migliori città una delle più belle città non perché è la mia città e le aree di risulta posso ritenere che sia la zona più pregiata di pescare adesso da 20 anni e oltre tutta l'amministrazione non la sua perché è all'inizio di queste aree risulta non sono riuscite a fare un cavolo di niente io chiedo come pescarese e parlo delle aree più pregiate della nostra città la sua amministrazione cosa intende fare di queste aree grazie questa è una domanda niente male l'area di risulta è una specie di erenità generazionale che attraversa le famiglie pescaresi visto che è quasi un trentennio che si trascina diciamo questa amministrazione intende fare quanto segue intende partire come partita dal dato acquisito cioè l'allocazione delle funzioni ivi destinate cioè che cosa ci si fa nell'area di risulta nell'area di risulta da proposta digerita dagli strumenti urbanistici metabolizzata dal dibattito politico e anche diciamo da quello pubblico nella cittadinanza è destinata a allocare le seguenti funzioni i parcheggi il verde pubblico e il plesso culturale noi stiamo diciamo abbiamo ci siamo rivolti a un advisor cioè un signore che studia queste cose per fare un piano economico finanziario per valutare la sostenibilità di questa operazione spacchettandola cerco di tradurre per i non addetti ai lavori e cioè esiste un problema che la costruzione dei parcheggi non è sufficientemente remunerativa ovvero fare i parcheggi costa molti milioni di euro ed è un investimento che si remunera da studi diciamo abbastanza semplici in un lasso di tempo che scavalca perlomeno il trentennio ed è difficile pensare oggi che c'è un signore che investe 30-35 milioni se ci mettiamo l'iva questo cresce e pensa di recuperarli fra 30 anni allora diciamo che cosa può fare la pubblica amministrazione può utilizzare un potere che sa che è il potere della norma il potere della norma è tale per cui quello che attualmente è il parcheggio del bingo può diventare una torre direzionale e rendere economicamente compatibile e realistica questa operazione perché se noi non facciamo esercizio di realismo temo che saremo destinati a fare conveni attività interessante per l'amor di Dio però diciamo ancora più interessante è naturalmente il fare quindi questo è diciamo l'indirizzo verso cui noi tendiamo poi c'è la questione naturalmente del plesso culturale naturalmente noi dovremmo fare un avviso pubblico e chiedere se vi sono dei soggetti economici che sono interessati a realizzarlo perché difficilmente pur con la capacità edificatoria vi sarà una sostenibilità economica di quell'operazione e da ciò la necessità di spacchettare il tutto e naturalmente noi facciamo questo nell'anno di Grazia 2015 allorché il mercato immobiliare non vive il suo momento più agevole allorché l'invenduto e i cartelli affittesi vendesi diciamo tappezzano le nostre città però questa è l'unica realistica via entro cui noi possiamo muoverci abbiamo fiducia che questo articolato piano economico finanziario possa esserci rimesso diciamo nell'autunno e da lì è nostra intenzione partire anche perché vedete cari signori noi diciamo abbiamo vissuto questo anno pericoloso con la necessità di mettere in sicurezza i conti del comune attività che difficilmente suscita l'entusiasmo dei cittadini perché poi si tratta di pagare le tasse però è la base indispensabile per la città del futuro per quella famosa speranza di cui si parlava prima per esempio c'è una cosa a cui io tengo particolarmente e cioè abbiamo fatto a marzo un protocollo di intesa con diciamo il dipartimento di architettura dell'università di Pescara una cosa a cui tengo particolarmente perché mi piace l'idea che le istituzioni dialoghi non mi piace l'idea che noi si possa collaborare con appunto l'università che è un luogo del sapere della formazione su cui vale la pena investire perché la formazione è sempre un buon affare facciamo questo non perché come dire vogliamo un piano strategico perché il piano strategico lo facciamo noi vogliamo però avere un approccio scientifico nei confronti delle grandi ancora aperte occasioni di trasformazione urbana che ha questa città e lo vogliamo fare avendo un approccio ripeto il più possibile scientifico che vada a delimitare con chiarezza quali sono le vocazioni cittadine e che valga ad evitare un costo che oggi non ci possiamo più permettere quello cioè delle inutili duplicazioni omaggio a un gigantismo aggiungo io provinciale che oggi ribadisco non sta più né in cielo né in terra quando io sento che a Montesilvano a Francavilla vogliono fare il porto mi si drizzano i capelli che mi sembra una cosa da secolo scorso da secolo breve oggi non funziona più così noi dobbiamo mettere da parte l'idea che ogni città possa avere un aeroporto un'università il campanile il teatro che diavolo ne so io bisogna essere in grado di fare sistema cercando di superare anche qualche legittimo umano comprensibilissimo provincialismo che per oggi è contrario a quel famoso spirito dei tempi che insomma tanto mi sta a cuore se non si fosse se non si fosse capito domande dubbi curiosità attenzione le domande dall'ultimo banco sono sempre le più pericolose buonasera 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 la mia domanda è molto semplice noi viviamo in una città adriatica bellissima che fa invidia a moltissime città europee soltanto che le città europee specialmente a nord hanno delle piste ciclabili sulle quali percorrono giornalmente centinaia e centinaia di ciclisti Pescara che si adatta moltissimo per la sua conformazione geografica abbiamo purtroppo qualche qualche deficienza allora io volevo chiedere al sindaco quali sono le prospettive che questa città offre agli avanti della bici che vorrebbero vivere la città in una maniera diversa aggiungo semplicemente un'altra cosa se è possibile che Pescara possa non avere in più questi attraversamenti a raso che costituiscono sempre enorme pericoli sia per i pedoni che per i ciclisti Pescara ha tante rotatorie per cui a mio modo di vedere non è facile certamente ma con un po' di impegno potremmo risolvere tutti questi attraversamenti a raso vedo via Marconi vedo via Gabriele D'Annunzio vedo via Lembobio che spesse volte questi attraversamenti causano degli incidenti volevo sapere appunto il comune in queste due direzioni quali sono le prospettive future grazie è noto che io vado in bicicletta adesso mi hanno anche dato una scicchissima bici elettrica pedalata assistita e quindi l'argomento diciamo senz'altro non mi è indifferente anche perché diciamo l'ho cronometrato quando io vado in bicicletta arrivo prima di quelli che vanno in macchina insieme a me e quindi già questo è un buon investimento si dimagrisce anche il problema di cui ho insomma che mi sta anch'esso a cuore la ciclopedonabilità è una come dire priorità per questa amministrazione non solo perché piace al sindaco andare in bicicletta perché va nella direzione della città vivibile va nella direzione di una città che corre in lunghezza pur avendo diciamo delle altitudini collinari e certamente c'è la necessità di essere protagonisti come stiamo facendo in questo anno rispetto a un progetto ancora più ambizioso di mamma regione a proposito della pista ciclopedonale più lunga d'Europa proprio per valorizzare questo insomma la bellezza del territorio ciò che nostro signore ci ha donato e poi c'è quella diciamo asse di penetrazione interno che è costituito dal fiume su cui pure bisogna lavorare su cui pure si stanno organizzando superando quei limiti cui accennavo prima tante municipalità tutte le municipalità che sono bagnate dal fiume pescale che attraversa tre province peraltro questo è una cosa che ho scoperto ma la geografia non è il mio forte è chiaro che queste sono operazioni articolate e proprio per questo vale la pena chiedere di essere giudicati della cittadinanza entro un quinquennio perché la pubblica amministrazione non è dotata di bacchetta magica però è una diciamo linea di come dire di indirizzo che riteniamo del tutto del tutto prioritaria non ho capito francamente la questione degli attraversamenti a raso per essere chiaro però immagino che vada nella direzione per cui è ovvio che la ciclabilità deve fare i conti con l'esistente cioè con quei pezzi di pista ciclabile per intenderci che sono e con la natura urbana che ci circonda con uno sviluppo caotico che sovente rende difficile il rammendo tra le piste medesime pur con la consapevolezza che come dire non è un'eresia ma anzi è elementare tecnica elementare mobilità quella per cui diciamo queste operazioni di rammendo possono svolgersi lungo le semistradali con corsie dedicate come avviene in tutti i paesi di quell'Europa cui è bene guardare come modello adesso va bene la dico grossa però anche l'Europa è sovente matrigna il rigore della Merkel i suoi tagliere però è anche soprattutto per come la vedo io buone pratiche quindi vale la pena tanto per dire noi adesso abbiamo un progetto molto ambizioso perché in questi chiari di luna così diciamo di mandili ristretti di dotazioni limitate diciamo che c'è un progetto di 5 milioni di euro di provenienza europea sulla mobilità alternativa e noi vogliamo essere all'altezza di questa sfida perché significa non solo piste ciclabili significa quelle bici elettriche che dicevo io significa autobus che sono a emissioni zero autobus verdi e dobbiamo essere in grado naturalmente di sviluppare una progettualità all'altezza perché in un certo senso la crisi le difficoltà sono anche una sfida sono soprattutto una sfida per come la vediamo noi e questa deve essere la sfida della creatività delle idee in un certo senso del talento per essere in grado di mettere in campo quella progettualità che ti serve a intercettare certe vitali linee di finanziamento e questa è una vicenda che da questo punto di vista è emblematica noi i progetti li abbiamo naturalmente dovranno essere validati dai competenti organismi europei però siamo fiduciosi sulla qualità del capitale umano che li ha partoriti buonasera a tutti sindaco sono io Antonio Di Girolamo siccome sono stato sollecitato da un polpo di cittadini per quanto riguarda il parcheggio a pagamento a Porta Nuova secondo me in un momento così pesante per i cittadini che a volte c'è gente che non può comprare nemmeno il pane mettere tre euro che va per andare al mare comprare la pizzetta prendersi una Coca-Cola perché ho una bottiglia d'acqua noi non dobbiamo fare queste forzature perché secondo me sembra una forzatura bella e buona e un'altra cosa lo dico chi fa lo sfalcio delle erbe va seguito perché tagliano l'erba non come bisogna tagliare lo buttano là tagliano mezzo sì mezzo no un'amministrazione penso che quella vostra sia un'amministrazione buona deve controllare non so se lo deve fare l'assessore deve fare il dirigente ma devono controllare ecco quello che gli dico io lo ripeto da parte dei cittadini di Porta Nuova questo fatto di mettere tre euro per il parcheggio mi sembra una forzatura bella e buona grazie sindaco mi sembrava strano che non fossimo arrivati ai parcheggi diciamo vuoi dire volendo fare volendo dare una risposta così si potrebbe obiettare che diciamo se uno non ha di che comprarsi il pane probabilmente dovrebbe riflettere in termini di economia domestica sull'opportunità di avere una macchina o meno perché la bicicletta ripeto è un mezzo di trasporto molto efficace è un dato di fatto che lo spirito dei tempi impone una nuova considerazione dell'uso dello spazio pubblico che sicuramente diciamo significa scontrarsi con abitudini legittimamente inveterate ma che tuttavia devono fare i conti ancora una volta con lo spirito dei tempi perché in qualunque località turistica tu vada i parcheggi sono a pagamento i parcheggi vicino al mare sono particolarmente a pagamento e diciamo anche con importi superiori e poi invece voglio aggiungere una parola con sorriso in ordine allo sfalcio delle erbe che prendiamo naturalmente come un monito ad essere sempre più attenti ma è noto che questa amministrazione ha cominciato direttamente a sfalciare le erbe a pulire i giardini abbiamo già delle richieste dopo i fasti di sabato scorso e quindi adesso abbiamo già un paio di iniziative da ma perché noi facciamo questo non solo perché trascorrere qualche ora all'aria aperta fa bene ma perché vuole essere in qualche modo uno stimolo un invito ai cittadini di unirsi a noi di unirsi a noi magari venendo a pulire un parco o al limite unirsi a noi idealmente pensando di non sporcarlo perché qui si possono fare naturalmente tutte le critiche che si vogliono e noi ce le prendiamo senza battere ciglio però è un dato di fatto che sulla civiltà media si potrebbe fortemente dibattere io sono curioso di tornare nel parco che abbiamo pulito sabato scorso fra una settimana per vedere che cosa c'è e immagino che non mi piacerà quello che vedo e da ciò un invito alla collaborazione alla cittadinanza perché i parti sono di tutti sindaco sono Norina Mercuri mi conosci non parlerò dei problemi sociali perché ne parliamo ampiamente tutti i giorni però vorrei farti due domande diverse due richieste diverse noi abbiamo una città che è sicuramente molto bella però in questi tempi sembra essere deturbata da un modo di costruire selvaggio selvaggio in questo senso una casa alta una bassa una verde una gialla ecco lei non ritiene che dovrebbe essere approntato da Pescara e non costa un piano sulla estetica perché questo secondo me va bene alla città la fa diventare bella e forse va bene per il commercio e per il turismo la seconda cosa noi abbiamo come CGL come altri gruppi femminili anche la famosa Amici della Finlanda abbiamo fatto una conferenza stampa l'altro giorno perché chiediamo a questa amministrazione due cose un posto dove che può essere lo stesso un posto dove fare un museo del lavoro femminile perché abbiamo una storia in questo legata non solo alla Finlanda ma alle birrerie alla lavorazione del tabacco una storia che ha visto le donne soprattutto sfruttate ma comunque parte della società e poi saremmo una casa delle donne che non è una casa delle donne del falciolo cioè non è una casa legata alla violenza ma è una casa dove le donne possono confrontarsi visto anche la situazione delle donne che sono quelle che risentono di più di questa situazione economica sono la disoccupazione delle donne del 2% in più rispetto a quella maschile le donne sono quelle che hanno una pensione più bassa ecco per queste cose che cosa vuole fare il sindaco su queste la città deturpata adesso non vorrei dire una stupidaggine ma mi pare che addirittura esista un regolamento dei colori in questo ente vedo poi un dato è quello certamente alla base di uno sviluppo urbano che non di rado è stato caotico indiscriminato che ha prodotto insomma certe brutture e storture fra le linee di indirizzo a proposito di questa idea diciamo di città del futuro eccetera io credo che il tema sia quello del consumo zero di suolo come diciamo linea di massima perché il suolo è un bene prezioso e va utilizzato al meglio delle sue possibilità e voglio però diciamo spendere qualche parola in più sulla questione che lei pone ero talmente sicuro che mi ponesse la questione della filanda che me l'ero scritta prima che la dicesse sì 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 perché male che fa mi posso riciclare come mago televisivo insomma cose di questo tipo la filanda giammaria è una vicenda che ha attraversato un pezzo sensibile di opinione pubblica cittadina cioè un luogo simbolo del lavoro che non c'è più che non c'è più perché è stato abbattuto legittimamente all'esto di un percorso amministrativo perché è stato dato diciamo un legittimo permesso di costruire che determina l'abbattimento di quello che per come per quello che ho visto io era solo diciamo un pezzo anche un po' pericolante della fuffilanda giammarino lei poi pone un problema che pure sapevo e che naturalmente non mi lascia insensibile perché le donne sono l'altra metà del cielo figuriamoci le lavoratrici e le persone sfruttate mi domando tuttavia proprio perché io sono amico di Platone ma sono più amico della verità come mi piace ripetere mi domando se oggi non sia il caso di interrogarsi su una superfetazione museale e la dico con una terminologia un po' da avvocato cioè significa che qui si vogliono fare tanti musei bene perché questo è un sintomo della vivacità culturale di una città che è un antidoto formidabile contro l'indifferenza però poi i musei devono essere anche in grado di funzionare da sé perché quel dato che citavo qualche oretta fa a proposito del costo del sistema museale è lì e noi certo non possiamo tornare indietro verso quella direzione dobbiamo pensare a strutture che siano in grado di sostenersi da sé senza il supporto finanziario pubblico e sulla casa della donna mi lasci dire che ho qualche perplessità se possibile ancora maggiore perché mi sembra che non c'è bisogno di chiudersi in una riserva indiana tanto più che le donne hanno legittimamente meritatamente conquistato opposizioni in tanti ambiti della società sono stato qualche settimana fa un interessante dibattito d'ordini professionali in cui a proposito del cambiamento di questo mondo si sottolineava l'ingresso e la presenza delle donne dall'avvocatura alla medicina eccetera eccetera mi duole constatare però che uno dei pochi residui avamposti del maschilismo resti proprio la politica quei palazzi lì quindi l'auspicio è che senza quote rosa perché poi le signore sono sempre più brave dei maschietti ci possa essere una nuova generazione di donne di signore che siano pronte a spendersi per la cosa pubblica che è attività impegnativa che magari difficilmente si concilia con certe esigenze familiari ma che sicuramente vale la pena fare eccomi sindaco ha avuto un intervento in te il cicolato il signore in effetti Pescara non può mantenere i suoi musei anche se io questo lo vedo ed è un problema che si rende sempre più difficile quindi io concordo con quanto con la preoccupazione del sindaco invece il grande problema di Pescara è quello delle biblioteche questa è una città che è a un livello da pesolitico per quanto riguarda le strutture c'è un allenamento rispetto a 40 anni fa pensate che le sole biblioteche esistenti sono quelle l'annunzio che è quella di 50 anni 60 anni fa più quella struttura regionale che se lo ha di portina che tra l'altro è irraggiungibile perché le piste ciclabili va bene ma tu alla di portina con la bicicletta non ci puoi andare se non sei un vocato al suicidio eh eh io sono tuttora sono arrivato da 80 anni in queste condizioni perché amo la bicicletta e mi conosco eh quindi il professore non è un problema strettamente comunale dal punto di vista formale e giuridico ma è un problema della città eh io giro per le città mi piace girare non si sente eh domanda qual è la tua eh fatti eh hai preguito e hai fatto la passeggiata eh allora vedi vedi non è una presa che preghe te ne fregherà la biblioteca avrai letto due libri qui da voi allora allora questo è il grosso problema che ci dobbiamo porre in futuro io la biblioteca sapete dove la vedo in quel grande errore che è stato fatto recentemente dei lavori del mercato di piazza un'opera che ha reso quella struttura architettonicamente validissima ma non è da mercato a parte che non si sceglie anche quello perché chi va lì a cooperare quando non puoi parcheggiare adesso ha situazioni di parcheggio di gallunga inferiori a quelle che aveva due o tre anni fa io la ci vedrei una biblioteca non ve ne frega un cavolo che la fate le sace non lo dico eh comunque è venuta è una io parlo di cose concrete amico perché io faccio sono impegnato socialmente e politicamente anche da libero pensatore ai 50 anni in questa città e conosco i problemi e allora io la vedrei Pescara dice è una delle più belle città d'Italia a me ciascuno si vive però Pescara ha un privilegio che nessuno sottolinea noi abbiamo il più bel parcheggio d'Italia cioè questa è una città che ha un parcheggio continuo grazie all'area di risulta e questo dobbiamo dare ai vecchi a me che parte da via Teramo via Teramo via Pisa e finisce a via Leopoldo Muzzi quasi è un privilegio che nessuna città d'Italia nessuna però potrebbe essere quello è la fortuna di questo il parcheggio scusate se mi scantarezzo questa è una città che potrebbe avere il parcheggio gratuito per tutti dobbiamo conservarlo perché perché è un ammortizzatore sociale perché se no la conti sono 80 persone impiegate a cui non sappiamo dare alternativa la domanda è questa sì sì abbiamo capito possiamo raccogliere qualche altra domanda perché oltretutto diciamo la stampa ci deve lasciare e poi c'è una domanda da una signora in rosso che non vedo l'ora di farmi fare eccomi sindaco assessori buonasera sono arrivato al termine di questo incontro quindi se il mio intervento era già superato mi interrompa pure un referendum popolare ha espresso in ampia maggioranza la volontà di un'area metropolitana e lei sa di che cosa parlo che tipo di interventi ha preso l'amministrazione comunale di Pescara per pungolare la regione Abruzzo in tal senso grazie altro buonasera a tutti rapidissimo cappello introduttivo qualche mese fa ho conosciuto una bella ragazza di Roma i genitori l'hanno comprato di un prato casa qui a Pescara lei è molto molto entusiasta di vivere qua il mare le montagne vicino il clima delizioso eccetera eccetera però mi ha chiesto ma ultimamente ha notato che c'è stato un calo della cura della città quindi le vie non più tanto ben tenute asfalti da rifare piante da potare e mi ha chiesto e tu che lavori lì tu che mi puoi dire io che le rispondo grazie sindaco mi scusi se torno sull'argomento della zona sud di Pescara che mi sta più a cuore ci sono nato è una zona che conosco come le mie tasche io vorrei portare la sua attenzione su un argomento che costituisce pure un po' l'identità di questa città e lei parlo della riserva naturale della pienità danunziana allora io in quella riserva naturale ci sono nato ci faccio sport e ho seguito in tutti questi anni il suo declino c'è un piano di riassetto della riserva danunziana che giace nei cassetti del comune e non viene in qualche modo attuato peraltro ci sono anche dei problemi annusi all'interno di alcuni comparti che vanno risolti e anche in breve termine le parlo del laghetto che deve essere bonificato perché è una cloaca a cielo aperto le parlo anche delle centinaia di piante di pini che per motivi voglio dire meteorologici e anche magari per mancata potatura manutenzione mancano l'appello nel comparto 3 e 4 mancano 600 acqui allora io chiedo come mai non c'è attenzione su uno degli elementi che rappresentano l'identità di questa città grazie buonasera sindaco noi ci conosciamo conosco non so dove l'ho vista ma la conosco non avrei voluto fare interventi però visto che mi chiama mi sollecita che non si dica mai che il Movimento 5 Stelle non risponde mi hanno in realtà un po' anticipato c'è un signore che ha già anticipato la domanda come Movimento 5 Stelle ma soprattutto come cittadina che ha votato sì al referendum sulla grande vescara come il 70% di vescaresi glielo ho chiesto in consiglio e glielo chiederemo con una mozione che cosa intende fare questa amministrazione in merito appunto a questa volontà popolare plebiscitaria che vuole la fusione di questi tre comuni grazie allora diciamo io adesso risponderei poi facciamo un giro finale con i Dioscuri e allora in ordine sparso partiamo dalle biblioteche che interessano molto a Pio e biblioteche è un bel posto perché è un posto dove si tramanda il sapere dove si studia e per esempio e per esempio personalmente quando penso al plesso culturale da allocare nell'area dei risulti io penso a una biblioteca come diciamo modello ideale beh questo diciamo non è detto perché le biblioteche del 2015 non sono solo biblioteche possono non essere solo biblioteche possono avere anche qualcos'altro che le renda diciamo più sostenibili comunque dovremmo andare insieme un giorno sulla Tiburtina la biblioteca regionale di Giampaolo perché effettivamente è un po' diciamo pericoloso però direi tutto ampiamente sotto controllo rispondo perché sono identiche le questioni sul referendum a proposito dell'area metropolitana vasta questo è senz'altro un tema duplicemente importante se posso dire e non solo perché chiaramente l'espressione della volontà popolare non è un optional ma è anche un tema di attualità perché è chiaro che oggi come oggi la questione della gestione dei servizi segue esattamente quello che cercavo di dire prima e cioè la necessità di ampliare l'ambito di azione non solo cittadino e pensare di collaborare con delle municipalità che stiano prossime diciamo sia pur in maniera come dire informale come diciamo dichiarazione di intenti noi ragionamenti di questo tipo abbiamo cominciato a farlo con Montesilvano che è qui vicino e che sicuramente ha problematiche molto simili alle nostre ragionamenti analoghi si fanno e si fanno anche dei passi in avanti per esempio sulla questione dell'ambiente della gestione dei rifiuti c'è stata adesso un'assemblea di ambiente che ha finalmente diciamo come dire scelto la forma dell'amministratore unico si provvederà alla nomina di questo amministratore unico fra un paio di settimane ma il problema è sempre quello di cosa fare dell'amministratore unico e così come della città e dell'area metropolitana vasta la necessità di indicare funzioni prioritarie da svolgere per evidentemente la migliore allocazione possibile delle risorse al volo la riserva naturale da annunziare la riserva naturale da annunziare io trovo che sia un posto meraviglioso ricorderete le piogge di marzo acqua di marzo una bellissima canzone brasiliana la cantata acqua e anche mina il 5 marzo era c'è stata una vera e propria devastazione di alberi che naturalmente è stata assolutamente trasversale riguardando pescare non solo tutta la penisola eppure dopo un mese abbiamo riaperto questa pinete non è scontato perché in passato è stata chiuda per molto più tempo allorché fenomeni atmosferici pesanti sono verificati e questo mi sembra un sintomo di cura e di attenzione poi si può fare di più vogliamo fare di più ci piacerebbe anche ci impegneremo a trovare qualche risorsa ulteriore perché l'assessore sul pizio esperto di verde ogni tanto mi dà notizie non esattamente incoraggianti ma per fare questo c'è bisogno senz'altro di una parte che fa il pubblico però di contro c'è anche bisogno di quella famosa collaborazione di cui accennavo prima da parte della cittadinanza perché in difetto di questo tu puoi pulire quanto vuoi ma poi ti ritrovi punto punto e a capo io a questo punto che faccio? Cedo la parola a Coppola a conclusione molto molto sinteticamente sindaco io rivolgo un paio di inviti che non sono miei personali ma della gente che telefona nel giornale uno è un invito a curare comunque il decoro della città perché è sempre il biglietto da visita quando vai a entrare in una casa ti piace trovarle che sia tutto a posto che chi ti accoglie non sia asciatto non si presenti male quindi piccole cose che le segnalo le aiuole su la riviera mi dicono che a volte i bidoni in questo periodo non vengono svuotati con eccessiva frequenza non so se attiva probabilmente stanno facendo le giuste legittime ferie però fa parte sempre di quelle piccole piccole forme di decoro a cui però tutti noi badiamo e l'altra cosa invece un invito personale è ripetere un incontro di questo genere anche in altri quartieri i quartieri più meno trattati che hanno magari problemi anche più importanti da Zanni a Colli a San Silvestro grazie a tutti allora Sindaco torniamo all'inizio di questa storia le due gambe dell'economia pescarese sono state edilizia e commercio sono le ragioni del boom e degli anni di benessere successivo dell'edilizia abbiamo già detto c'è una crisi probabilmente di sistema ma che scarica su Pescara effetti dirompenti il commercio l'ultimo anno è stato drammatico perché si è assistito alla chiusura delle grandi aziende indigene quelle che hanno dato il valore aggiunto di Pescara come piazza commerciale adesso il centro di Pescara non è dissimile davanti i centri commerciali che si possono incontrare nella penisola c'è un luogo dei franchising e l'unica iniziativa in controtendenza viene da un investimento che non è né pescherese né abruzzese viene dalle marche queste due cose la lasciano completamente indifferente o vede uno spazio di azione allora decoro urbano il diciamo il decoro urbano è la cosa che più di tutte qualifica un'amministrazione evidentemente perché tu attraversi passeggi per strada e vedi in che stato sono le aiuole e in che stato sono i bidoni in che stato sono i parchi eccetera non è esattamente andata come volevamo circa le dotazioni che noi possiamo destinare alla manutenzione urbana che nella mia campagna elettorale resta e resta nell'azione di governo la più grande e importante opera pubblica certo non è facile fare manutenzione urbana quando questi capitoli sono diciamo piuttosto magri ma evidentemente questo significa uno stimolo per ancora una volta migliorare ma ribadisco chiedendo sempre questa collaborazione alla cittadinanza perché la città è di tutti e poi collaborazione alla cittadinanza dei coro della riviera mi fa pensare per esempio al fatto che abbiamo attivato di questo ringrazio l'assessore Marcheggiani una raccolta differenziata sulla riviera chiaramente scontrandoci con logiche comprensibilissime ritrosie rispetto al passato però l'ambizione per esempio è di evitare che sia normale se tu cammini alle 8 di sera vedere i cumuli puzzolenti di spazzatura questo diciamo è un piccolo segnale naturalmente ma a me sembra anche significativo proprio perché va nel senso la direzione del decoro e della collaborazione perché la riviera è super biglietto da visita la crisi del commercio lascia indifferente il sindaco no caro dottor Mastri la crisi del commercio naturalmente non lascia indifferente il sindaco però io so anche che è il mercato bellezza è il mercato e tu non puoi farci quasi niente o meglio noi abbiamo pensato avevamo ipotizzato a forme di diciamo agevolazione fiscale questo ci è impedito dal piano di riequilibrio e allora dobbiamo valorizzare qui adesso Cuzzini si illuminano agli occhi il nostro vulcanico assessore al commercio puntare su iniziative che possano dare diciamo respiro e nobilitare questo settore è il tema delle notti bianche l'abbiamo fatta l'anno scorso notte bianche dello shopping quest'anno puntiamo a ripeterla e vogliamo fare qualcosa ancora più diciamo grande una notte bianca sull'intera riviera proprio per valorizzare questo asset così importante e così attrattivo naturalmente siete tutti invitati pizza porchetta sushi c'è tutto quello che si può immaginare un'ultimissima notazione a me mi colpisce molto questo fatto che trovo sia in qualche modo segno dei tempi in passato il bene rifugio per eccellenza era la casa tu compri la casa non investi è un'ultima generazione oggi gli immobili sono oggetto di una tassazione crescente a tutti i livelli e il sospetto che uno dei beni rifugi stia per diventare il bar perché avete notato quanti bar si aprono in Pescara però immagino che non sarà solo l'economia dei cappuccini che pure è importante e significativa ma l'auspicio naturalmente è che questi segnali di ripresa economica che al momento sono impercettibili nella vita delle persone perché sono 0,3 inchiostro su carta possono aiutare il comparto perché tu sicuramente ti fai camminare la testa vuoi fare iniziativa c'è stato Ironman la settimana scorsa grandissimo successo però è chiaro che l'auspicio è che riprende un po' più di fiato l'economia per favorire i consumi che senz'altro sono in una fase di contrazione ah mo' è un pensato perché dico qua ho parlato solo io adesso prima di diciamo chiudere in bellezza questa questa serata diciamo vogliamo far dire qualcosa a questi meravigliosi guerrieri e guerriere al mio fianco di Jacopo che facciamo sulla cultura va bene allora inizio io dagli assessori allora chiaramente mi sono ritrovato in uno scenario che è quello che più mi appassiona perché io vivo di cultura lavoro insegno in università scrivo romanzo quindi sono estremamente felice di questo ruolo che ho avuto chiaramente la cultura numerosa è ferita di cui la praticamente assenza di contributi finanziari è soltanto una piccola parte di questo è terminata un'epoca secondo me cioè l'accidente che noi abbiamo le voci della cultura a costi ridotte sicuramente sono un fatto tragico ma non possono essere un alibi per non nutrire alimentare di cultura questa città che credetemi ha tantissima voglia di essere affamma e sette di cultura contate che a Pescara ci sono oltre 300 associazioni culturali soltanto una piccola parte delle realtà che fanno cultura che vogliono cultura da questa città ma sono significative nonostante questa grave diciamo riduzione del budget siamo riusciti a mettere in campo circa 200 iniziative culturali in questi 12 mesi questi creano naturalmente una serie di collaborazioni sinergie tra associazioni mettendoli insieme facendo sì che su progetti comuni si possa convenire inoltre abbiamo praticamente anche l'aspetto dei musei della città noi abbiamo un unico vero grande museo all'incentro che è il museo Vittorio Colonna un grande importante museo qui vicino che è il museo Crescella e poi abbiamo uno spazio nuovo diciamo molto cardoscopico come possibilità che è l'Aum e inoltre abbiamo un circolo a Ternino che è un po' un avamposto nel centro storico di quello che noi vogliamo fare con una proposta culturale ognuna di queste strutture ha una sua vocazione una sua identità e per questo va riempito con un programma molto preciso io per il museo Colonna ma forse sottogliano dopo tempo anche agli altri assessori dico giusto due parole e poi sicuramente voglio sentire anche gli amici con me il museo Colonna è un museo al centro della città ed è l'unico museo strutturato per ospitare grandi mostre che possono a loro volta incrementare una funzione e partecipazione del centro della città con un conseguente rivitalizzazione di quella zona che dice prima il sindaco appunto da via via suotandosi per il museo però perché io potrei dire tante cose sulla cultura diamolo e poi per quella struttura abbiamo dato vita a un programma che è iniziato con l'ottobre dell'anno scorso e terminerà a generale dell'anno prossimo di mostre di alto livello di mostre di livello internazionale e nazionale per il fatto che vogliamo far sì che il massimo della cultura diciamo dell'arte italiana europea possa per essere lì ma non vogliamo per questo diciamo togliere possibilità di esprimersi alle realtà più emergenti creative nuove della città per il ciclo aternino che come dicevo prima sorge nel centro storico di Pescara una zona che voi avete visto da un lato crescere per frequentazione locali eccetera ma dall'altro cresce anche il problema della sicurezza e spesso quella zona così bella che noi amiamo è stata agli noi della cronaca per fatti negativi puntando su quel luogo il ciclo aternino come fucina di energie creative mostre promozione della situazione giovanili vogliamo un po' rinnovare il volto intero della città ma siccome c'è tanto altro a dire sulla città questo è un piccolo spaccato sulle questioni della cultura io passo dalla mattina alla sera nell'ufficio mio qui sopra chiunque di voi voglia approfondire questi discorsi fare proposte e partecipare con me alle ricostruzioni culturali della città è ben accetto grazie a tutti a grande richiesta io mi devo allenare come bravo presentatore però mi sembra che ne abbiate avuto abbastanza gli assessori ve li diamo insieme ad una gabbia di leoni la prossima volta grazie naturalmente per essere stati qui è stato un vero piacere non ha neanche piovuto a cosa che temevamo ok Edge play the blues musica